Rrrrrr Rrrrrr Rrrrrrrr Rrrrrr 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 Vai! Rrrrrrrr Gomma! Vai! Number one Stefano! Rrrr 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 Opa, stari qua! Vai, GP! Cosa ci fai vedere? Perciò che ti rende più i cavalli? Guarda, 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 guarda... Guarda, guarda, guarda! Guarda, 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 guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, 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 guarda! Guarda, guarda! Scariciamo l'interno, prima e seconda! Scariciamo l'interno, prima e seconda! Ciao! Ah, il video non paro, viene però Il video non paro, viene però Tu che sei quello di prima, quanti cavalli ci scarichi qua? 200! Che sta a 200 prima seconda che la facciamo cantare? Oh, vuoi non la rovinare? Non puoi scaricare quel cavallino, che tu ce li hai! Tira via i controlli, tira via i controlli e farla scodare! Pronto? Vai, vai, vai! Adesso fanno tu che riesci pure tu, che tu hai i cavalli, via i controlli! Via i controlli! Via i controlli, veramente, scarica! Vica! Viva i controlli! Vediamo il canale. Parlo. V vida! Tranquillo, vai, eh! Scarica, bella, scarica! Sei uno di noi! Sei uno di noi, galera! Sei uno di noi! E' un controverso, però scarica davanti! No, guarda! Cosa ci fai vedere? Ma guarda, non me la rucco però, eh! E' un controverso! Vai, Gio! E' un controverso! E' un controverso! Vai, Gio! Wow, iutini! Wow, iutini! Hey! Ah, E' un controverso! Ha, e' un controverso! Wow, iutini! Chiavantisti! OK, c'è si che va! Wow, iutini! E' un controverso! Wow, iutini! Ah, iutini! A di chi? Ah, iutini! Ah, iutini! Vai! 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 Buonavo-buon! Vai! 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 Buonavo! Buongiorno! Vai! 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 Buongiorno! 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 Marco stasera a posto, ragazzi, guardate buona posto, stanno da maggiori, stanno da maggiori buona sera ciao 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 ciao